2023, prova finanziamento flessibile ai clienti, se voi cliccate su questa notizia, aprirò un'altra pagina, quello che succede è che ci fa vedere come è possibile in modo semplice offrire dei prezzi, lui ci dice se abbiamo per i prodotti con un prezzo compreso tra gli 80 e i 3000 euro, per i prodotti con un prezzo inferiore ai 100 euro il pagamento a rate senza interessi sarà abilitato solo se l'importo totale dell'ordine è di almeno 100 euro. E tutto questo ovviamente è gratuito per mettere a disposizione Amazon e onestamente consiglio di attivarlo se potete farlo, quindi ricapitolando, il prodotto deve costare almeno 80 euro, da 80 euro fino a 3000 euro. Se il prodotto costa ad esempio sotto i 100 euro, quindi se in questo caso il prodotto è 80 euro, il cliente deve almeno acquistare due prodotti per poterlo richiedere a rate, perché come ci dice qui il pagamento a rate sarà abilitato solo se l'importo totale dell'ordine è di almeno 100 euro. Quindi cosa facciamo? Possiamo andare in finanziamento flessibile clienti per i venditori sulla pagina e qua ci spiega tutta la policy, cioè come funziona, che è quello che abbiamo visto adesso. Ma se noi vogliamo direttamente vedere la pagina, devo trovare la pagina per andare a impostarlo, scusatemi, impostarlo. La pagina prodotti, vediamo se è questa. Eccola qua, eccola qua. Infatti da qua dentro la policy basta andare in, per verificare quali prodotti abbiamo idonei nell'inventario, si va in pagina prodotti qua dove ci dice vai nella scheda prodotti idonei della pagina prodotti, basta cliccare su questo link e automaticamente ci fa vedere questa pagina qui che è per richiedere, per attivare, diciamo, l'opzione di prestito, poi ci fa anche un disegnino che ci spiega come funziona. Quindi selezione prodotte durate, il prodotto è stato acquistato, quindi gli impulsi sono visibili ovviamente per acquistare il prodotto, il prodotto viene acquistato e qua ci dice anche se un cliente non paga le rate in tempo il suo account venditore non sarà in alcun modo interessato, quindi questa cosa è interessante. Quindi il tuo account venditore comunque, il nostro account venditore non viene comunque intaccato, qui puoi vedere anche la performance dei prodotti iscritti, quindi puoi annullare anche i prodotti iscritti ovviamente, poi il prodotto viene spedito e qua ci dice i ricavi delle vendite verranno pagati in base ai normali cicli di pagamento, meno la commissione totale per il finanziamento flessibile ai clienti. Quindi ovviamente comunque uno verrà pagato via via in base alle rate che il cliente poi va a pagare ovviamente. Quindi come qui ci dice tutto, tutte queste pagine qui sulla sinistra come funziona, introduzione e risorse del programma, ce le avete tutte qui. E poi qua ci basta andare a inizia l'iscrizione e ci fa lui in automatico avviare l'iscrizione, quindi basta cliccare su inizia l'iscrizione e poi dovrebbe comparire se il prodotto sarà idoneo. Questa scritta qui come ci fa vedere Amazon acquista subito e paga la rate che avete già visto come clienti. Quindi basta andare su inizia l'iscrizione e qua ci spiega come funziona. Costi di iscrizione al programma 0 euro, quindi è gratuito. Al momento Amazon dice poi bisogna vedere se nel tempo li farà pagare e poi anche qui ci dice per annullare l'iscrizione al programma in qualsiasi momento, annullare l'iscrizione al programma non influisce sugli ordini di clienti esistenti e effettuati errati. Ovviamente gli ordini sono già stati fatti, non potete annullarli. E poi qua uno mette accetta e mi scrivo, consiglio di farlo in realtà se ovviamente ripeto avete prodotti che vanno almeno dagli 80 euro in su nel catalogo, in questo modo è gratuito e il cliente è più facile che le acquisti a rate. Come si trova in questa pagina? Ripeto, personalmente la trovo in modo molto semplice dalla sezione notizie che uno può anche andare a aggiungerla ai preferiti, volendo. Oppure, però, ok, uno può anche aggiungere ai preferiti. Oppure, tranquillamente, scusatemi, provando a cercare finanziamento flessibile ai clienti direttamente nella barra di ricerca. E lo possiamo provare a fare adesso. Quindi lo proviamo a incollare. Quindi se noi cerchiamo nella barra di ricerca questa cosa qui, ecco, lo troviamo anche in questo modo qua. Quindi basta cercare finanziamento flessibile ai clienti, riusciamo a trovarlo tranquillamente il link per tornare qua, che ci rimanda le pollici, basta andare poi su prodotti, pagina prodotti, e ci fa iscrivere direttamente a questo programma, che a parer mio conviene essendo gratis. Poi ovviamente uno valuta e dice sì, ma a rate non lo voglio offrire, lo voglio offrire. Vero che comunque Amazon ovviamente vi darà più visibilità, perché su alcuni prodotti che costano di più è più semplice che il cliente paghi a rate, ovviamente. Poi ovviamente anche il stato qui dipende dalla policy, dalla struttura operativa dell'azienda, se vuole farlo, se non vuole farlo, se volete farlo. Ovviamente fate sempre ciò che sentite alla fine, ma è comunque uno strumento che secondo me, essendo gratuito, ed essendo che Amazon vi dà più visibilità, ha senso attivare, poi ovviamente non tutti acquisteranno a rate, ma è giusto come si dice, come col Prime, meglio esserlo che non esserlo in un certo senso quando si vende su Amazon. Anche non vendendo su Amazon come Prime, comunque si riesce a vendere, ma come Prime siamo più visibili. I clienti sono abbonati Prime, ci vedono prima degli altri. Ovviamente anche qui dipende dal tipo di prodotto, prodotto grande, prodotto piccolo, ovviamente c'è un po' da andare nello specifico. e quindi non vediamo.